La particolarità soprattutto di queste fotografie, quello che si può vedere, è il fatto anche che sono fotografie che sono molto, diciamo, mimiche. Non a caso, quindi le espressioni che vengono utilizzate soprattutto dalla parte femminile, ma anche da quella maschile del cinema muto, erano tutte, diciamo, pose molto importanti. Questo proprio per cercare di dar, fra virgolette, voce a quella che era anche una semplice fotografia, proprio perché il cinema era muto e lo è stato per molti, molti anni. Gli scatti con protagoniste, le splendide donne del cinema muto. Questo è l'omaggio reso all'universo femminile dal MUMEC e il Museo dei mezzi di comunicazione di Arezzo in occasione dell'8 marzo, giornata internazionale della donna. Una collezione appunto particolare, dedicata alla donna, poiché vengono esposte tutta una serie di fotografie di grandi attrici di cinema muto, dei primi del 1900. Fotografie che sono comunque molto particolari, proprio perché a parte ritrarre proprio queste importanti donne, che hanno dato proprio l'immagine del primo proprio cinema muto, sono tutte immagini perfettamente curate e volte ad esaltare quella che era, diciamo, le particolarità di ognuno di questi volti femminili, quindi con piccoli dettagli, piccoli trucchi, tutte interamente, veramente tutte dipinti a mano, quindi una collezione veramente molto importante.